Ok, ragazzi buongiorno, allora, spesa alla cop 34,92€ con i ticket, ok, allora, questi biscotti qua sono costati, oddio aiuto, dov'è? Tutto tranne i biscotti, ok, 1,95€, questi qua col grano saraceno, tipo molinetti, c'erano anche se li dimarca ma costavano 3€, quindi li sono costati 1€ o qualcosa, quindi va bene, poi pan bauletto, 2, le abbiamo presi, speciale 1€ e, no, 60 centesimi, questo qua, pan bauletto del Carrefour, del Carrefour, della Copp, di solito non andiamo mai alla Copp, con i ticket a volte andiamo a comprare, e va bene, questo qui, pan bauletto, un altro di pan bauletto, poi, allora, gli ziti, 59 centesimi, poi pasta carofalo, dov'è? Pasta carofalo, linguine di semola, 69 centesimi, cimedirà po' 78 centesimi, ma falda corta 1,29€, perché senza tessera, la tessera di Dino era scaduta, e quindi non potevamo usarla, costavano tutto poco, la pasta a 75 centesimi, appunto, 75 centesimi gli ziti, 59 centesimi, pasta di pomodoro 75 centesimi, succo di limone 1,28€, confettura di ciliegie a 78 centesimi, pomodoro ciliegino 99 centesimi, 2 yogurt, della marca Copp, e su vi faccio vedere, 1,05€, anche le mozzarella mi sembra 1,05€, sì, no, le uova 1,05€, le mozzarella a 2,15€, c'erano anche le galbani, ma costavano 3,79€ o 2,79€, ho detto, senti, chi ve lo fa fare di comprarle, che costano care come il fuoco, pan bauletto, ok, tartare ne ha presi 2, 4,90€, l'una, meno niente, perché senza tessere gli sconti non ce li ha fatti, mandarini, nador, cot, copp, 2,98€, c'era anche un cestino che costava 3,49€ invece che 4,48€ in offerta, però mi piaceva il cestino, mi piacevano anche le clementine, le ho prese non sfuse nel sacchetto, che costavano di meno, boh, ma anche perché a Dino gli ho detto guarda le clementine che vede nel cestino, mi ha detto no, costano troppo, e quindi abbiamo preso quelle che costavano di meno, poi vi faccio vedere tutto adesso, ma falda corta, yogurt vipiteno, saccatella 1,43€, c'era anche lo yogurt della Müller, sempre mi sembra 1,49€, 1,79€, non mi ricordo, ma con solo gusto vaniglia, invece quello vipiteno c'era con i pezzi, c'era con la fragua, con i pezzi, c'era la vaniglia, c'era la saccatella, ho preso quella della saccatella, boh, penna di gatte, caffè childe cove, 2,60€, 1,63€, penna legata 1,29€, si, garofalo, succo di limone l'ho già detto, mozzarella passata pomodoro cop originale 0,75€, Dino che va a dormire, ok, giusto in bicicletta, confittura aeree da 10,78€, quelle piccole tipo carcour, bon, vi faccio vedere tutto, i prezzi sono quelli, con i ticket 34,92€, tutti i buoni pasto che danno a Dino quando lavora, è bon, allora, di solito non andiamo mai alla coppia, sono anni che non andiamo, siamo andati una volta sola, ma non è come niente, né con i soldi veri, né con i ticket che sono praticamente soldi, quindi vabbè, per cambiare un po', perché andiamo sempre al Carrefour, al Penny, al Lidl, che palle, sempre gli stessi posti, sempre gli stessi cibi, comunque vabbè, pasta Garofalo, questa qui, mezze pette, perché solo due pacchetti a Dino non bastavano, quindi ne ho dovuti comprare tre, anche quattro pacchetti di pasta, solo pasta e carne, praticamente mangiamo in sta casa, vabbè, ha preso questa Dino, che è questa carne qui, tartare di bovino adulto, fior fiore cop, alimentazione 9 GM, ne ha prese due, ho detto io non la mangio perché è troppo grossa, troppo spessa, non mi piace così, mi piace di più quella del Lidl, queste qui 4,90€, sono costate, se vi interessa, ok, non so se le comprate anche voi, voi andate alla Coppa a fare la spesa, fatemi sapere, questa qui, anche questa, stasera se ne mangia tutte e due, buonanotte, così ve lo contento e felice, perché lui pasta e carne, lo fate felice, cibi di rapa per lui, perché a me non piacciono, un broccolo, perché se ne prendevamo due, spendevamo di più di quello che dovevamo spendere, quindi vabbè, 11 marzo scade, quindi stasera devi farlo andare per forza, tartare di bovino adulto, questa qui, morbidoso, fatta da hamburger, mi piace, sì, carino, però non mi sta a impazzire la carne, sinceramente, mi piace di più il pollo, le fettine, mi piace di più la salsiccia, mi piace di più, ecco, le solite cose, diciamo così, boh, basta, parlo troppo, questi qua sono gli yogurt che ho preso io, a parte un altro alto vipiteno alla stracciatella che vi faccio vedere dopo, c'è anche la vaniglia, mi sembra, l'ho preso, mi sembra la vaniglia, c'è anche la banana, eccetera, questo qui lo prendo sempre al Carrefour, quello è molto più buono, ma vabbè, c'è anche la vaniglia della vipiteno, pomodoreni 99 centesimi ciliegino per fare i sughi, perché i pesti costavano 3 euro e 4 euro, la barilla della coppia, cose costosissime, veramente, per me è tutto costoso, vabbè, lascia a perdere, gente che ride, che cammina, eccetera, che va a camminare, succo di limone coppia, questo qui, tutto marchio coppia, ho quasi tutto comprato marchio coppia, prima ho steso fuori tutto, tutto di roba, c'era il sole, adesso non c'è più il sole, quasi se ne va, i broccoli, allora, un broccolo, questo qui si è attaccato, un broccolo così per me, che a me piacciono più questi che le cime di rapa, così, un broccolo solo, e queste qui sono le cime di rapa, con sacchetto compostabile, mi sembra che costi 5 centesimi, 78 centesimi cime di rapa della coppia, non so se a voi piacciono le cime di rapa, fatemi sapere, questa è la marmellatina, c'era sia di albicocche che di ciliegie che di pesche, forse anche, e di fragole, piccolissima, 4 ce ne sono come quelle del Carrefour, le clementine sono queste, mi sembrava veramente poche, ne erano anche abbastanza bruttine, c'era il cestino che era più bello, ve l'ho detto prima, non va bene lo stesso, appoggio tutto lì poi, vado a mettere a posto, subito ho preso questa pasta qui, che sono tipo le trenette, ma falda colta, ma io le chiamo trenette, le chiamo pavette, non pavette, c'è proprio, non ma falda, c'è un altro, c'è un altro modo di dirle, in piemontese, che mia nonna le cucina sempre, queste qua, ma sono più lunghe, a me piacciono comunque queste qua, quindi lo comprate, prima ho preso questo, poi mi ha detto, prendi anche gli ziti, prendi anche altri pacchetti di pasta, quindi abbiamo preso due o tre pacchetti di pasta, siamo a posto, poi ho preso al self due cose, vi faccio vedere, questi qua sono gli ziti barilla che erano in offerta, vi ho detto i prezzi prima, poi caffè espresso 18 cialde bar cop, non abbiamo mai comprato questo, vediamo se è buono, ve lo farò sapere se a di non piace, oppure se non gli piace, poi avevo preso questa, non so se prenderla, non sapevo se prenderla, perché ho detto tanto il passato, la passata di pomodoro la posso fare in casa, ho comprato i pomodori, questa qui 79 centesimi, è costata, ho detto, me la piglio, cop, c'era anche quella ovviamente della Mutti, passata di pomodoro italiano, 700 grammi, questa qui non è liquida, sembra non liquida, il barattolo lo darò a mia suocera per fare la conserva in casa, visto se la fa bene, se non la fa, va bene lo stesso, e via, quello lì era in offerta, ho detto, senti, una passata in più, una passata in meno, va bene lo stesso, le voglio fare in casa, che costano di meno, hanno ragione quelli che dicono, comprate poco e fate tanto in casa perché costa di meno sicuramente, spendere poco nel comprare le cose in farina, uova, latte, zucchero per fare gli ingredienti, cioè gli ingredienti per fare le cose in casa, i sughi, comprate la pancetta, comprate il virus, comprate quello che vi serve, ma non comprate cose troppo già fatte da altri, ecco, io cerco di comprare, a parte la pasta che non la so fare io, a parte la carne che non la so fare io perché la tartare non la saprei fare, ma a parte il caffè che le cialde non ne so fare io, però comunque le clementine non ne so fare io, ma cose che posso fare io evito di comprarle, più delle volte sto facendo così, cop, linguine, queste qua piacciono a Dino, a me la pasta lunga non mi piace, sarò viziata, ma è così, e poi abbiamo preso, ho preso questo, che Dino e yogurt non li mangia, infatti ne ho uno bianco, ho comprato forse per lui, però qualche ricetta non l'ha ancora neanche aperto, questo qui è la vaniglia, e poi ho preso le mozzarella, quelle che vi dicevo prima, queste qui non so che marca siano, Brimi, Suttirol, latte di fieno, di latte fieno, 100% latte alto adige mozzarella fior di latte, ce ne sono 3 e scadono il 27 marzo, boh, mai provate queste, qualcosa di nuovo, di diverso dal solito l'abbiamo comprato, ma poca roba, ecco, diciamo così, allora, al selfie vi faccio anche un video non solo del Carrefour, ma proprio un video generale perché se non l'altro durerebbe un minuto, vi ho fatto anche un vlog, ma non so quando lo caricherò perché ci va un po' con il computer che non funziona, questo qui per mia madre, domani, assolutamente, io lo do se viene domani perché il suo compleanno è il 3 marzo, oggi è il 2, quando registro questo video, l'ho preso al self, a 2,50 euro, ma questo video lo caricherò dopo il 3 marzo, quindi non importa più il prezzo, e poi c'erano questi vassoi, tutto 1 euro, tutto 99 centesimi, c'erano anche delle ciotole, è bassissimo, questo per mettere due salatini, due caramelle dentro, se invito qualcuno, c'era anche nero, verde, carino, una cavolata perché non serve a niente, in plastica però mi piaceva, anche per fare i video tapping in ASMR va bene, quindi, boh, queste due cavolate, e poi dai cinesi tre cose, abbiamo lavato la macchina, abbiamo aspirato la macchina, ma non l'abbiamo asciugata, quindi lasciandola asciugare al sole praticamente i vetri sia davanti sia quelli del guidatore, eccetera, sia dalla mia parte, e anche quelli dietro sono tutti puntinati, e anche dentro non è che sia proprio perfettamente pulita, anche se l'ho pulita io, e mi diceva Dino, non pulirla solo fuori, puliscela dentro, la pulivo sia dentro che fuori, ma non è bastato, va bene lo stesso, tanto se piove la prossima settimana o già da domani, abbiamo lavato per niente, solo per sprecare un po' di soldi, si dice, lavi la macchina e si sporca, ed è inutile che la lavi, hai sprecato solo i soldi, se piove poi l'hai lavata, tu hai lavato la macchina e poi piove, e quindi serve a niente, vabbè, ho preso di nuovo dai cinesi sempre i soliti, ai mai, dove c'è anche il sushi, Vanish questo qui è 1,99€ che l'avevo finito, e ho solo un pantalone da lavare adesso, ma tanto arriveranno altre cose, ho preso questo qui, anche dai cinesi stanno aumentando i prezzi, il quaderno di solito costava 99 centesimi, questo qui costa già 2,50€, o 1,99€, così per scrivere, perché io avevo finito le mie agende, e quindi ho preso questo, c'erano quelli block notes, tipo proprio per disegnare, che si aprono dall'alto, c'erano i quaderni, ma 3€, quelli da scuola, tutti a rega, mi piace disegnare e scrivere soprattutto, con i quaderni a quadretti, quelli dell'Idola adesso sono due, ne avevo comprati l'anno scorso, sono finiti, quindi ne ho comprato uno a 1,99€, boh, poi ho preso questo, c'era il paro d'ontax, ma 3,79€, anche alla cop c'era, ma costava carissimo, quello che serve a me per un po' di sangue che c'è dalle gengive, purtroppo, non sono perfetta, quindi così, ho dei problemi anch'io, ho preso questo, ce ne erano un sacco dal cinese, tanto in menta dentro, non c'è scritto China sopra, quindi io mi fido, perché compro così di marca, ma che costano meno dal cinese, rispetto che al Carrefour, alla Cop, eccetera, ho detto a Dino, prendiamo la pasta, che tanto pasta gragnano, pasta Carrefour, pasta Cop, pasta reggia, anche dai cinesi c'è la pasta varilla, che costa molto meno di quanto l'abbiamo comprata noi, e di quanto l'abbiamo pagata, idemi, pan bauletto, l'acqua, volevamo comprare l'acqua alla Cop, però tanto non sta dentro i ticket l'acqua, è un problema con questi ticket, è un gran casino, puoi comprare solo gli alimentari, praticamente, e neanche tutti, perché se è fuori, poi devi pagare con i soldi, con le monete, ecco, vabbè, boh, abbiamo preso quello che serviva, a parte, vabbè, caramelle, cazzate, non le abbiamo comprate, ho preso la marmellata, sì, c'era anche quella Hero, Ero, marca così, boh, spesa in un posto diverso l'abbiamo fatta, anche per fare video diversi, voglio andare a comprare posti diversi, uno perché pensavo fosse economico la Cop, ma con i ticket e anche senza ticket non è economica, quindi vabbè, abbiamo comprato carne che è costosa, perché la carne, anche se compri solo due o tre cose, la carne è costosa, c'è niente da fare, ci sono gli insetti che vogliono entrare in casa, però se compri la carne aumenta il prezzo, sia se fai la spesa settimanale che se fai la spesa mensile, è sempre stato così, con i miei genitori prendevamo la pasta, la carne e la carne, più che tutto mais, fagioli, minestre vari, la carne fa aumentare qualsiasi tipo di prezzo, qualsiasi spesa tu faccia, questo è quello che penso, a presto, parlo troppo, basta, ciao!